Ciao a tutti e benvenuti al nostro canale I Prezzo e Recensioni. Prima di iniziare con il video, ti ricordo che trovi tutti i link ad Amazon sotto al video in descrizione o nel primo commento. Oggi parleremo delle 5 migliori smart TV da 32 pollici sul mercato. In quinta posizione abbiamo la Isense 32 LED H di Reddy 32A4FG, disponibile su Amazon al prezzo di soli 179 euro. Questa TV offre un'ottima qualità audio e video, nonostante non sia Full HD. Inoltre, è dotata di molte funzioni smart, come la possibilità di connettersi a internet tramite Wi-Fi e di accedere alle app più popolari come Netflix e Amazon Prime Video. In quarta posizione troviamo la LG 32LQ63006, la Smart TV 32 Full HD, venduta a 224 euro su Amazon. Questa TV offre un'ottima qualità video grazie alla risoluzione Full HD, ed è dotata di molte funzioni smart, come la possibilità di connettersi a internet tramite Wi-Fi e di accedere alle app come Netflix e Amazon Prime Video. Inoltre, ha un design elegante e moderno che si adatta a qualsiasi ambiente. In terza posizione c'è la Nokia Smart TV, 32 pollici 80 cm Android TV, venduta a 269 euro su Amazon. Questa TV è dotata di sistema operativo Android TV, il che significa che offre un'ampia gamma di app e funzioni smart. Inoltre, la sua risoluzione Full HD garantisce un'ottima qualità video, e il design minimalista e moderno si adatta a qualsiasi ambiente. In seconda posizione abbiamo la Samsung TV Q32 LS0 3T Caxe LS0 3T Smart TV 32, venduta a 324 euro su Amazon. Questa TV è dotata di molte funzioni smart e di una risoluzione Full HD che garantisce una qualità video eccezionale. Inoltre, il design elegante e minimalista di questa TV la rende perfetta per qualsiasi ambiente. Infine, in prima posizione abbiamo la Sony Bravia KD32W800 Smart TV 32 pollici, venduta a soli 329 euro su Amazon. Questa TV offre una qualità video eccezionale grazie alla sua risoluzione Full HD e al processore X-Reality Pro. Inoltre, è dotata di molte funzioni smart, come la possibilità di accedere alle app come Netflix e Amazon Prime Video e di connettersi a internet tramite Wi-Fi. Il design elegante e moderno di questa TV la rende perfetta per qualsiasi ambiente. Queste sono state le nostre 5 migliori Smart TV da 32 pollici sul mercato. Ricorda che trovi tutti i link per l'acquisto sotto al video in descrizione o nel primo commento. Grazie per averci seguito e alla prossima!